Era tranquillo, ma quando scendemmo dall'auto è diventato una bestia e il racconto della prostituta rumena che due anni fa ha subito le stesse sevizie della donna trovata morta a Uniano. Mi fece spogliare, mi legò, qualche mese dopo tornò da lei, lo cacciai, mi disse ti ammazzo, era italiano, alto, fra i 50 e i 60 anni, grasso, con pochi capelli, racconta. Lui arrivò su un'auto piccola, chiara, mi disse che mi avrebbe portato a Firenze, invece a un certo punto svoltò e si diresse verso Prato. Fino a quel momento era stato tranquillo, aggiunge la donna, appena sceso di macchina diventò una bestia. Io scappai, ma lui mi rincorse, mi raggiunse, mi legò a un paolo, con le braccia incrociate davanti al viso in piedi. La seviziò con un legno, lei riuscì a farlo andare via con un calcio quando le si avvicinò con una tenaglia. Questa è una delle storie confluite nel fascicolo fiorentino per la morte di Andrea Cristina Zamfir. L'uomo soddisfa le proprie perversioni con le prostitute, è violento ma non ha intenzione omicide. Con Cristina la situazione gli è sfuggita di mano.